I libri di storia minore raccontano che nella tarda primavera del 45, durante la liberazione di Milano, il Paietta Giancarlo si sia seduto alla scrivania del prefetto e, preso il telefono, abbia chiamato Polmiro Togliatti. La telefonata fu breve. Il Paietta Giancarlo disse «Compagno segretario abbiamo occupato la prefettura di Milano». Al che il Togliatti Palmiro, con la sua voce melliflu, rispose «Bravo! E adesso che te ne fai?». Poi risuonò un click. Già, e adesso il bravo Renzi Matteo che se ne farà di questa crisi? Come il Paietta trova la prefettura vuota, con cassetti rovesciati e fascicoli buttati alla rinfusa e fogli sparsi sul pavimento, così il Renzi Matteo sta scoprendo quanto sia palpabile il vuoto che gli si sta formando intorno. Difficilmente le sue quinte colonne lasciate nel piedi usciranno allo scoperto. Hanno fatto timidi tentativi, ma adesso non è certo il tempo. Sanno bene che nel caso di elezioni, adesso come adesso, anche a chiamarsi Marcucci del Rio, Ascani o Morani, si corre il rischio di vedere messi in discussione il posto in lista e se Zingaretti ha un minimo di sagaccia, dovrà soppesare e guardare ogni nome in controluce, non fosse altro per non fornire nuove truppe a Renzi nel caso di un suo, improbabile si spera, ritorno in Parlamento. D'altra parte, pensare di presentarsi nel partitino renziano significa buttarsi dal decimo piano sperando di cavarsela solo con una caviglia sbogata. Per cui quelli che dicono di essere stati renziani, ma non renzisti, tutti i calambur sono buoni pur di rifarsi una verginità, se ne staranno buoni e tranquilli almeno per un altro anno e mezzo. Tutti tengono famiglia, poi si vedrà. E magari qualcuno della sua sparuta truppa sta pensando che Torna a casa Alessi non sia solo il titolo di un film. Nei prossimi giorni Conte andrà alla conta ed è molto probabile che se la caverà, così come anche per il prossimo anno e mezzo. Ci sono molti denari, c'è parecchio da fare, c'è molto posto, purtroppo per tanti, per non dire per tutti. Così va il mondo. Aldunque, le variazioni ottenute al piano da 9 miliardi ad oltre il doppio per la sanità, giusto per dire il più eclatante, sarebbero state ottenute anche senza tanto rumore, con qualche buon argomento e senza andare allo scontro. Ma questa è la vita dei guasconi di quartiere, quelli che sono così pieni di sé che non è neanche necessario mandarli allo sbaraglio, ci vanno da soli. Chissà se con questo ennesimo giro fallito il Renzi Matteo non riesca a mettere in pratica la sua promessa di tre anni fa. In fondo sognare non costa nulla. O invece non lo si troverà come indipendente in qualche lista del centro-destra, se quelli del centro-destra saranno così boccaloni. Ma non si sa mai. Buona settimana e buona fortuna.